L'Italia dei Valori ha presentato una mozione in provincia sulla riserva del Borsacchio. Quali sono i contenuti? Allora, noi intanto ribadiamo che siamo favorevoli al mantenimento della riserva. Abbiamo presentato questa mozione perché stiamo ravvisando un sacco di intenti e poca azione dal punto di vista amministrativo. Una mozione nello specifico consente sia di salvaguardare la riserva per intero sia di consentire l'attuazione del contratto di quartiere dell'annunziata Giulianova. Consiste praticamente nell'abrogazione di due commi della legge regionale del 2005, il 23 ed il 19, con un rimando specifico alle limitazioni e alle norme a tutela alla legge quadro delle aree protette del 91. In questo modo, secondo me, la situazione si può sbloccare ed è la politica un forte segnale di ascolto verso la collettività, la società civile, le associazioni e i vari comitati che da mesi protestano inascoltati dalla politica. Cosa ne pensa invece delle proposte ad oggi in atto? Allora, a mio avviso le proposte sono frutto di una cecità assoluta da parte di alcuni politici che purtroppo devo pensare sia a nostaggio di alcuni imprenditori che hanno finanziato le campagne elettorali. Se no, non c'è altro modo per spiegare questa situazione e questo bavaglio che è stato messo ai vari comitati, alla società civile che chiede di essere ascoltata. Purtroppo vengono anche qualche proposta scelerata di smantellamento della salvaguarda e viene anche da centro-sinistra e questo un po' me ne dispiace. Grazie.